Doveva essere un evento importante, uno di quelli pensati apposta per dare lustro al nome della città. Una tappa del campionato nazionale che avrebbe replicato in grande l'esperienza del marzo scorso. Tutto questo non è accaduto perché, anche se la macchina organizzativa sembrava studiata nei minimi particolari, sulla carta, all'atto pratico ci si è scontrati con una catena di circostanze che hanno trasformato il grande evento in farsa. Pochi vigili, in ritardo e privi delle notizie necessarie, poche transenne per delineare il percorso, nessun avviso alla cittadinanza. Questi sono gli ingredienti dello psicodramma andato ieri in scena a Monteruscello. Secondo me la ragione unica è che è stata presa sotto gamba. L'importanza di questa manifestazione non è stata vista con il punto giusto da parte di chi, io parlo delle amministrazioni locali, di chi ha concesso i permessi, io dico grazie in primis perché hanno dato la possibilità di svolgere questa gara. Però poi devo dire per le prossime volte, se ci sarà, che non va organizzato così. Perché noi ci siamo mossi mesi prima con sopralluoghi, con modifiche del percorso per l'eventuale chiusura. Però poi arrivati alla mattina, ieri non era pronto niente, occorrevano le transenne per chiudere il percorso. Sono avuto meno le transenne, sono arrivate in ritardo le transenne, sono arrivate in ritardo i vigili. I vigili non sapevano cosa dovevano fare, cioè voglio dire è stata una tragedia. Il tutto può essere imputabile ad un vero e proprio gap culturale rispetto alla preparazione di certi eventi, che in alcune zone d'Italia, che non hanno certo o meno problemi di viabilità, vedi sorrento, riescono alla perfezione. Un gap degli amministratori ma anche della cittadinanza, poco avvezza ad essere privata delle sue comodità, anche se per poco tempo e per una manifestazione importante. Un gap culturale nell'organizzare, ma modestamente non da parte dell'organizzazione, perché diciamo che noi abbiamo fatto il possibile concesso, ma anche da chi deve assistere a queste cose. Cioè proprio il cittadino non è che è abituato tanto a essere un attimino impedito nella circolazione della macchina, perché a parte il fatto che a Napoli siamo abituati, anche se dobbiamo fare 100 metri, non dobbiamo prendere la macchina. Io non voglio dire che è colpa dei cittadini assolutamente, però se venivano avvisati un attimino in tempo giusto, in tempo debito, penso che la cosa poteva risultare sicuramente positiva, come tra l'altro è stata nel mese di marzo, perché a marzo su un percorso diverso abbiamo avuto un'altra gara a Monteruscello, che è andata benissimo. Un'esperienza del genere è un macigno sull'immagine degli organizzatori, ma della città tutta, che per riprendersi ha bisogno di persone caparbie, pronte anche a rimetterci di tasca propria, per cercare di cambiare qualcosa. Io lotto sempre per il ciclismo in zona, perché noi siamo un ciclismo manatoriale. Non voglio condannare l'amministrazione al 100%, perché non me la sento di condannare la 100%, però prego di non sottovalutare gli eventi che vengono proposti, perché non tutto è semplice. Noi abbiamo una cultura in zona, parlo di tutta la zona flagrea, tutto quello che non è calcio viene preso sotto banco, ma purtroppo lo sport non è solo il calcio, c'è il ciclismo, c'è il basket, c'è la pallavolo, c'è la corsa, l'atletica, ci sono tanti sport, quindi credo di un buon risultato nel futuro, ma non in questo modo. Grazie a tutti.